Dal Vangelo secondo Matteo Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Buona Pasqua. Il brano evangelico inizia con un'indicazione di tempo all'albeggiare del primo giorno della settimana. Oggi sappiamo che giorno era, era domenica 9 aprile dell'anno 30, quel giorno che i cristiani hanno chiamato l'ottavo giorno. Difatti i battisteri antichi erano ottagonali, questo numero era diventato sacro per i cristiani perché indicava la Pasqua. Erano ottagonali perché coloro che venivano battezzati prendevano coscienza di essere entrati in un giorno che non avrà mai fine. La loro vita non era più destinata a una tomba ma a una vita che non muore. In questo mattino di Pasqua ci sono due donne che si muovono quando c'è ancora buio. Sono Maria di Magdala, la conosciamo molto bene, e poi un'altra Maria che probabilmente è quella che è stata citata dall'Evangelista Matteo al momento della sepoltura di Gesù. Era la madre di Giacomo e di Giuseppe. Lo ricorda l'Evangelista Matteo che quando Giuseppe d'Arimatea ha avvolto il corpo di Gesù in un candido lenzuolo e l'ha deposto nel sepolcro, poi ha fatto rotolare la pietra e si è allontanato, dice l'Evangelista che c'erano molte donne che osservavano da lontano e fra di loro c'erano Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e poi viene citata anche un'altra donna, la madre dei figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni. Al mattino di Pasqua questa donna non compare più. Possiamo fare una supposizione. Chi era questa madre dei figli di Zebedeo? È già stata ricordata dall'Evangelista perché un giorno si è presentata dal Maestro per chiedergli che quando lui fosse entrato nella gloria, quando avesse preso il potere, doveva porre alla destra e alla sinistra i suoi due figli. Sognava la gloria. Questa donna in quel venerdì deve aver visto crollare tutti i suoi sogni. E allora comprendiamo che nel mattino di Pasqua lei già non si muove più, è uscita di scena con discrezione perché ha visto che la storia del Maestro di Nazareth si era conclusa in un modo tragico. Cosa vanno a fare queste due Marie al sepolcro? È il loro affetto per il Maestro che le spinge ad andare a visitare il luogo della sepoltura. C'era infatti l'abitudine per tre giorni di andare a visitare la tomba. Però il verbo che viene impiegato qui in greco è theoreo, che significa vanno a contemplare, a riflettere. Non è un semplice guardare di sfuggita. Vanno a ripensare sull'accaduto. Sono rassegnate ma hanno bisogno di rielaborare il lutto e quindi anche di parlare, di sfogarsi. Vanno a piangere, a fare un lamento e anche a riflettere sulla morte del giusto. Il potere, la forza del denaro hanno vinto. Non resta quindi che rassegnarsi di fronte allo strapotere del male e della menzogna. Ripensare forse queste forze negative avranno sempre la meglio. Il giusto è stato vinto, il liberatore è stato ridotto al silenzio, chiuso per sempre in un sepolcro. Devono aver pensato. È la storia del mondo. È stato così sempre e sarà sempre così. Il mondo nuovo in cui avevamo riposto le nostre speranze è fallito. E chi non ha ancora ricevuto la luce della Pasqua non può che andare alla tomba per, theorein, contemplare la vittoria della morte. E il trionfo quindi del non senso della vita e se è per finire in una tomba ci si chiede se vale la pena nascere. Le due Marie rappresentano tutti coloro che non hanno ancora ricevuto la luce della Pasqua. Si muovono così. Vanno a contemplare il destino dell'uomo che finisce in una tomba. Sentiamo che cosa accade quando queste due donne giungono al sepolcro. Ed ecco vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgole e il suo vestito bianco come la neve. Matteo racconta in modo diverso dagli altri la visita delle donne al sepolcro. Gli altri evangelisti dicono che quando sono giunte al sepolcro la pietra era già stata rimossa dalla bocca del sepolcro. Matteo invece dice che le donne hanno assistito a uno spettacolo grandioso. Non siamo di fronte a un resoconto giornalistico di un fatto. No, Matteo vuole presentare ciò che è accaduto nella Pasqua, il più grande intervento di Dio nella storia quando la morte è stata definitivamente sconfitta. E per presentare questa verità lui ha a disposizione il linguaggio e le immagini che tutti i suoi lettori capiscono perché sono le immagini bibliche. La prima di queste immagini ed eccovi fu un terremoto grande. Terremoto è l'esplosione impressionante delle forze della natura e viene impiegata anche nella Bibbia per indicare, non c'è un'altra immagine più forte, per indicare l'intervento di Dio. Per esempio, quando Dio scende sul monte Sinai per parlare con Mosè, il libro dell'Esodo dice che tutto il monte tremava molto. Dove Dio arriva c'è questo scuotimento della terra. È proprio negli abissi della terra che avviene il più grande terremoto della storia dell'universo. Era negli abissi della terra che entravano tutti coloro che lasciavano questo mondo, entravano nello Sheol. Ma quando i patriarchi, Davide, i profeti, il battista sono entrati nello Sheol, non è successo nulla. Tutto è continuato come prima. Tutti rimanevano prigionieri della morte. Quando nello Sheol è entrato Gesù, è successo il terremoto, lì è entrata una vita che ha sconfitto la morte. E notiamo bene, quando Gesù è entrato lì, non è che ha liberato tutti i prigionieri dalla morte e li ha riportati di qui. Notate, nell'icona Gesù è entrato il Gesù, il Gesù vivo in questo mondo che sta predicando. Poi è entrato anche lui nello Sheol, ma non è più tornato di qui come ha fatto Lazzaro. È entrato nel mondo di Dio, ha spalancato questa porta e ha condotto con sé tutti coloro che erano nati prima di lui ed erano morti prima di lui. E adesso questa porta verso il mondo di Dio rimane spalancata per sempre. Lui è il primogenito di questi risorti e quando si dice risorto non si dice ritornato a questa vita, ma entrato nella casa del Padre. e vediamo che questo terremoto indica quasi il contorcersi di una partoriente che sta per dare alla luce una vita che non finisce mai, la vita stessa di coloro che hanno ricevuto dal Padre del Cielo la sua stessa vita. Seconda immagine. L'angelo del Signore. Questa espressione compare spesso nella Bibbia e non indica l'angelo come lo immaginiamo noi. No, questa espressione indica il Signore stesso e quindi ciò che lui ha fatto nel giorno di Pasqua. Quando per esempio il Signore parla a Mosè da Roveto, l'autore sacro dice l'angelo del Signore parlò a Mosè, cioè è il Signore stesso. E che cosa fa il Signore? Scende dal cielo, rimuove la pietra, rimuove la pietra, spalanca il sepolcro e noi ci aspetteremo in questo momento di vedere Gesù che esce dal sepolcro. Questo lo hanno immaginato i nostri pittori occidentali che nei loro dipinti hanno presentato Gesù forte che esce con la croce in mano e torna di qui. No, nessun evangelista racconta l'uscita di Gesù dal sepolcro. È soltanto un Vangelo apocrifo del secondo secolo, il Vangelo di Pietro che racconta questa scena di Gesù che esce dal sepolcro. I Vangeli non potevano raccontarlo perché Gesù non è tornato a questa vita quando è stata rotolata via la pietra. È risorto Gesù nel momento stesso in cui ha esalato l'ultimo respiro, quello è il momento in cui è entrato nel mondo dello Sheol e ha liberato tutti introducendoli nella casa del Padre. Gli uomini avevano posto una pietra davanti al sepolcro era il segno definitivo della vittoria della morte. Lo diciamo anche noi metterci una pietra sopra. Pensavano di aver chiuso per sempre nel sepolcro colui che voleva dare inizio a un mondo nuovo. Invece l'angelo siede vittorioso sulla pietra è il trionfattore sulla morte. La pietra era stata sigillata e erano stati messi dei soldati delle guardie per mantenere sempre chiuso quel sepolcro. Dio ha rotto anche quei sigilli e rompere i sigilli significava sfidare il Cesare di Roma e l'angelo lo fa. Sfida il potere di questo mondo quello dei dominatori degli oppressori che volevano mantenere Gesù prigenniero per sempre nella morte e dice il mondo antico il mondo della morte è stato vinto e ogni segno di morte scompare perché Dio ha donato agli uomini la stessa vita che aveva e che ha Gesù di Nazareth. E poi l'aspetto di questo angelo come folgore e il suo abito bianco come la neve sono altre due immagini bibliche. La folgore è un attributo divino è il massimo della luce e della potenza e il colore bianco indica la pienezza di luce che rischiara il buio del sepolcro. Noi pensiamo che la morte sia un passaggio dalla luce verso il buio della tomba adesso non più adesso si passa dal buio di questo mondo e si entra nella luce piena perché lo Sheol è stato rischiarato dalla Pasqua e adesso entrano in scena coloro che sono schierati dalla parte della morte coloro che vorrebbero che la pietra del sepolcro non venisse rimossa sono le guardie poste dai poteri di questo mondo potere politico e religioso ascoltiamo per lo spavento che ebbero di lui le guardie furono scosse e rimasero come morte l'angelo disse alle donne voi non abbiate paura so che cercate Gesù il crocifisso non è qui è risorto infatti come aveva detto venite guardate guardate il luogo dove era stato deposto presto andate a dire ai suoi discepoli è risorto dai morti ed ecco vi precede in Galilea là lo vedrete ecco io ve l'ho detto chi rappresentano queste guardie al sepolcro rappresentano tutti coloro che per interesse per servilismo per ignoranza si schierano a servizio del mondo vecchio vogliono perpetuare il mondo antico che è quello dei dominatori rappresentano coloro che difendono il mondo della morte queste guardie sono colte dal tremore del terremoto vedono crollare tutto ciò in cui loro avevano creduto tutti i loro sogni adesso cadono e sono come tramortiti dall'intervento del Signore nella storia a costoro l'angelo non parla devono rendersi conto da soli che la loro vita a servizio della morte è destinata al fallimento e difatti loro ripiegheranno su ciò che conta in questo mondo il denaro non cambiano non si lasciano scuotere da questo terremoto l'angelo parla alle donne non abbiate paura voi devono avere paura le guardie che vedono fallire tutti i loro progetti e poi l'angelo dà l'interpretazione della tomba vuota guardate lui non è qui la tomba è vuota come sono vuote tutte le tombe perché nelle tombe rimangono le spoglie non le persone da quando è giunto in quel sepolcro la forza divina che aveva Gesù di Nazareth la tomba vuota è il segno e quando si è verificato che questa tomba è vuota si è pronti preparati a fare l'incontro con il risorto e il risorto non è più colui che ha un corpo composto di atomi ma ha il corpo dei risorti che non può essere verificato con i nostri sensi questo incontro con il risorto che prima le donne e poi i discepoli faranno è raccontato da tutti gli evangelisti con l'unico linguaggio che hanno a disposizione quello fatto di immagini materiali vedere toccare abbracciare il risorto Luca addirittura a mangiare con il risorto la rivelazione che le donne ricevolono dal cielo è che Cristo è vivo come aveva detto di fronte a quella tomba vuota le donne ricordano che Gesù aveva detto che una vita donata non finiva nell'oscurità di una tomba ma nella luce del mondo di Dio è il ricordo della sua parola che alle donne fa vedere il risorto e il messaggio dell'angelo vi precede in Galilea là lo vedrete cos'era la Galilea era la terra nella quale giudei e gentili vivevano insieme non erano giudei di razza pura era una razza mista e questa Galilea rappresenta il nostro mondo quello in cui noi abitiamo insieme a persone che cercano Dio e a persone che non si interessano di Dio è un mondo misto con persone che noi amiamo e con altre che forse non sopportiamo ecco è questo che rappresenta la Galilea vedrete il risorto andando in Galilea dove di nuovo Gesù guida i suoi discepoli come guida noi oggi è nella nostra Galilea con questo annuncio di ciò che abbiamo visto con lo sguardo della fede che noi coglieremo la presenza di Cristo che è vivo sentiamo cosa fanno le donne abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli ed ecco Gesù venne loro incontro e disse gioite ed esse si avvicinarono gli abbracciarono i piedi e lo adorarono allora Gesù disse loro non temete andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea là mi vedranno le donne abbandonano in fretta il sepolcro non ha più senso stare a contemplare una tomba che è vuota e corrono ad annunciare ai discepoli l'esperienza che hanno fatto non hanno ancora incontrato il risorto ma sono preparati a incontrarlo perché hanno ricordato ciò che lui aveva detto e mentre vanno ad annunciare ai fratelli che Cristo è vivo il risorto si fa loro incontro e dice rallegratevi non abbiate paura da quando Gesù è passato per lo Sheol l'uomo non deve più aver paura del buio di una tomba perché è stata illuminata che cosa fanno le donne strinsero i suoi piedi e lo adorarono beh noi avremmo abbracciato Gesù invece le donne stringono i suoi piedi qual è il significato di questo gesto perché ci si insiste nei racconti della Pasqua sulle mani e sui piedi anche il risorto dice guardate le mie mani e i miei piedi le mani sono il simbolo di ciò che lui ha fatto i piedi del cammino che lui ha percorso ricordiamo che quando ha chiamato i suoi discepoli ha detto venite dietro a me seguite i miei passi quei passi che apparentemente portavano alla morte perché Gesù chiedeva sempre di donare la vita adesso le donne hanno capito dove sono giunti quei piedi sono giunti passando attraverso il dono della vita quindi attraverso la morte sono giunti nella gloria di Dio è fondamentale capire dove conduce il cammino di Gesù il cammino che non si è fermato al Calvario quei piedi sono andati molto più lontano e bisogna contemplare il destino di quei piedi le parole del risorto sono le stesse dell'angelo non temete non c'è più da aver paura della morte dopo che Cristo ha attraversato quella valle oscura che ci spaventa ed è bello quello che il risorto dice ripetendo le parole dell'angelo andate a dire ai miei fratelli coloro che lo avevano abbandonato rinnegato consegnato rimangono suoi fratelli la lettera agli ebrei dirà non si vergogna di chiamarci fratelli perché ci ama così come siamo è a questi fratelli che lui ha consegnato la bella notizia che noi siamo chiamati ad annunciare a tutti gli uomini auguro a tutti una buona Pasqua grazie a tutti